Rino Danielli, direttore sportivo del Cattolica San Giovanni Marignano. Oggi sembrava che allo Stadio Calbi potessero entrare un po' di abbonati, di tifosi, una quarantina, ma all'ultimo momento la Questura ha dato il no apertura a porte e quindi possono partecipare solo le due squadre, quindi senza pubblico. Esatto, c'è una situazione paradossale perché ieri avevamo l'ordine di giocare a porte aperte, poi è arrivato l'ordine, il controordine di giocare a porte chiuse, poi quello di eventualmente fare entrare solo gli abbonati, non si può andare avanti così, soprattutto in un girone dove ci sono delle toscane, noi domenica abbiamo giocato contro la squadra toscana dove lo stadio era aperto, quindi oltre che essere secondo me disequilibrato perché ovviamente delle squadre tipo quella che incontriamo oggi è una squadra già attrezzata con un budget importante, se poi andiamo a giocare da loro e hanno pure il pubblico che li dà la mano capisci che diventa una cosa secondo me con poco equilibrio, c'è poca confusione, no molta confusione, c'è poca chiarezza. L'unica forza è che voi Rimini, San Maurese facciate una petizione agli organi competenti, ovviamente alla federazione e alla regione, visto che c'è la delibera Bonaccini che consente mille ingressi agli stadi, se ovviamente hanno la capienza per poter avere un chiarimento perché così il campionato è un po' falsato. Assolutamente sì, noi facevamo fede ad un'ordinanza di agosto e sembrerebbe che adesso sia stata disattesa, quindi sì, adesso c'è bisogno di chiarezza perché è impossibile che uno si svegli la mattina, che sia la questura, che sia l'aslo, che sia chi per esso e prendere una decisione così importante. Ci fa chiarezza e spesso in Italia questo non c'è. Dovrebbe essere uguale per tutti, in tutto il territorio nazionale, che in Toscana oppure in provincia di Bologna si faccia entrare il pubblico e qua no. Le regole dovrebbero valere per tutti e dovrebbero essere uguali. Assolutamente sì, sono d'accordo, sono d'accordo e ancora maggiormente nello stesso girone perché ovviamente noi qui abbiamo, come ho detto, tre squadre toscane che purtroppo non rientrano in questo dispositivo, cioè quindi che ci facciano capire qualcosa perché veramente non ci capiamo più niente. Questa è la prima partita in casa con una squadra forte che ha un budget potente, ecco cosa vi aspettate da questo esordio in casa? Ecco, noi sapevamo che avevamo un esordio, diciamo un trittico molto molto difficile perché abbiamo giocato appunto domenica con una squadra che secondo me lotterà ai vertici, questa qui di oggi, conosco molti giocatori, è una squadra importante che secondo me se la giocherà fino alla fine per vincere il campionato e poi avremo domenica, non dimentichiamoci, anche Firenzuola che comunque sono anni che sta lottando ai vertici del campionato e quindi anche quella sarà dura. Noi oggi cosa mi devo aspettare? Mi devo aspettare che la squadra si applichi nella stessa maniera che si è applicata domenica scorsa perché io lì veramente mi aspettavo un minimo un punto e quindi che giochi con la stessa determinazione, con la stessa voglia. Noi qualità ce l'abbiamo soprattutto nei giovani, quindi io comunque sono dell'idea che le partite vanno giocate, certo loro hanno una squadra forte e non si sono neanche nascosti perché ho fatto due chiacchiere con il direttore e con il presidente, loro hanno dichiarato che vogliono vincere il campionato e quindi noi li metteremo il bastone tra le ruote finché possiamo. Allora in bocca al lupo, speriamo al termine di questa partita di poter fare dei sorrisi. Speriamo, speriamo. Un saluto a tutti, grazie. Teibi come mai è cattolica? Lei è il direttore sportivo della Regina, ex sportiere del Milan che tutti conosciamo e abbiamo apprezzato. Bene, la Regina quest'anno dovrebbe puntare a fare bella figura se non essere promossa. Noi cerchiamo di fare un buon campionato, questo è il nostro obiettivo, fare la parte sinistra della classifica, poi in bici sono tante squadre forti. Sono qua perché sono amico del presidente Nicolastro e Giavarini che è il mio carissimo amico e sono da una visita di cortesia e così mi vedo anche la partita. Quindi vede se ci sono dei giovani in futuro che possano essere utili al suo lavoro. Sì, è il mio lavoro, andare a vedere partite. Questo perché anche il cattolico gioca oggi contro una grande squadra per la categoria laianese. Visto che noi stasettimana siamo in sosta, mi vedo qualche partita qua al nord. Va bene perché poi tutto il mondo è paese. Il fatto che ancora una volta senza pubblico. Questo purtroppo è l'indica perché abbiamo in Italia a livello calcistico, anche perché in Serie B lei considera che a Reggio avremmo fatto almeno 15.000 abbonati. Ci troviamo a giocare a porte chiuse, ma speriamo che prima o poi la gente possa rientrare allo stadio. Il problema è che fanno regole che non sono per tutti omogenee in tutta Italia. Ad esempio in provincia di Rimini stadi chiusi, in provincia di Bologna stadi aperti, in Toscana stadi aperti. Si falsa un po' anche il torneo? Ma si falsa il torneo, ma soprattutto sarebbe giusto fare per tutti perché ho visto che comunque il Covid non c'è più una regione bassa, ma credo che ormai leggendo su tutte le regioni che hanno dei problemi. Non è come all'inizio quando ha fatto tanti morti, adesso forse anzi sicuramente c'è più guarigione. Io sarei per aprire più gli stadi per tutti, magari in piccola parte iniziale, per poi vedere più avanti. Anche perché ho visto che i partiti di tennis la gente ci va. Al cinema la gente ci va, non capisco perché gli stadi non si per la sua squadra, per la regina e mi saluti gli amici di Reggio. Cattolica San Giovanni, debutto a Calvi nel recupero della prima giornata, affronta l'Agnanese all'esordio, riviato anche il match domenica scorsa contro la Bagnolese per i neroverdi. Nel Cattolica San Giovanni ci sono alcune novità nell'undici di partenza, rispetto all'ultimo turno tra i titolari spiccano Sartori e Garavini, tra gli ospiti in panchina il nuovo acquisto Belazzini, quattro le defezioni tra i giallorossi, Pierantozzi, Gioia, Rea e Meraglia. La terza arbitrale è affidata alla signora Bianchi di Prato e agli assistenti Cirillo della sezione di Roma 1 e lo bene di San Benedetto del Tronto. Partita che si doveva giocare prima a porte chiuse, poi a porta aperte, infine aperta solo agli abbonati. Insomma, una serie di decisioni che comunque non aiutano il calcio di eno, come ribadisce al nostro microfono IDS giallorosso Vino Dannelli. La situazione è paradossale perché ieri avevamo l'ordine di giocare a porta aperte, poi è stato arrivato l'ordine, il controordine di giocare a porte chiuse, poi quello di eventualmente fare entrare solo gli abbonati, cioè non si può andare avanti così, soprattutto in un girone dove ci sono delle toscane, noi domenica abbiamo giocato contro la squadra toscana dove appunto lo stadio era aperto. A quattordicesimo l'Agnanese è pericolosa, cross dalla sinistra di Coco a lungo oggetto il desiderio del Rimini Calcio, colpo di test in aria sempre dell'ex Rimini Remendi, con palla alta sopra la traversa, primo piano per uno dei colpi del mercato nero-verde. A quindicesimo tiro centrale di Brega, peraltro senza problemi da Piai. A diciottesimo angolo dalla destra di Giannini, in aria vengono respinti in sequenza i tiri di Remedi, Coco e Brega con la difesa giallorossa che riesce a scampare il pericolo. Al ventitresimo Colombini di testa manda abbondantemente a lato, al quarantatresimo invece Sartori dalla destra rimette in aria il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Dal lato opposto la rosa, poco dentro l'aria, tenta la conclusione con il pallone che si spegne a lato. A quattro cinquesimo la partita si sbrocca. Respinta corta della difesa su un traversone, la palla arriva sui piedi Giordani, sul tiro di piatto è deviato in corner da Piai. Sull'angolo dalla destra, imbattuto da Giannini, la palla viene spizzata, l'attaccante Exabinolef Coco in aria, completamente libero, salta più in alto di tutti e ribatte in gol. 0-1, non c'è tempo di rimettere la palla al centro che l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. La ripresa vede gli ospiti arrotondare il risultato, a quarto rigore assegnato per l'Alnanese. Brega lavora una palla in aria, sul centro-sinistro a contrasto con Palazzi, con l'attaccante che anziché colpire il pallone centra in pieno la caviglia del difensore giallorosso, che nell'occasione rimarrà a terra. Invece l'arbitro, deciso come non mai, assegna il penalti che Giordani trasforma. 0-2. A sedicesimo arriva invece il penalti anche a favore dei padri di casa. La rosa viene stessa in area di rigore. Da Gasco, che verrà successivamente ammonito, Manuzzi dal dischetto si lascia neutralizzare il tiro d'Ansaldi, che sarà protagonista nel bene e nel male. Al ventunesimo arriva il tiro dalla distanza di Bellazzini, il portiere rispinge in tuffo e sulla ribattuta Brega è pizzicato in posizione di offside. Dall'altra parte Garavini conclude invece alto. Segue una fase di stallo, la partita si riaccende solamente nel finale. Gli ospiti in contropiede sfiorano la marcatura, ma né Soldani né Bellazzini riescono a incidere, mentre i giallorossi di mezzo alle distanze al minuto 42. Zanni, servito da Seu, lascia partire un missile da fuori aria che gonfia la rete ospite, sorprendendo il portiere Ansaldi. 1-2. Vale la pena rivedere la prudezza da parte dell'ex Bellaria. Davvero un gran bel gol, quello di Zanni. A 46esimo il portiere Ansaldi perde clamorosamente palla su questo corner. La rosa, ben appostato, insacca, ma l'arbitro annulla in modo incorprensibile per farlo sull'estremo difensore ospite. Ma il replay ci mostra l'abbaglio preso dalla signora Bianchi di Prato, che incredibilmente nega il pareggio agli uomini di Lilli. La partita si chiude sul definitivo 1-2. L'Agnanese era a debuti in campionato d'accordo. Era la prima, ma da una corazzata del genere non è possibile vedere annesie che possono costare caro. La squadra di Colombini si rilassa, si specchia parecchio, si divora qualche contropiede di troppo. Invece Cattolica San Giovanni gioca una partita tenendo bene il campo, mostrando grinta e determinazione. E onestamente appunto avrebbe meritato certamente qualcosa di più. Beffata, occorre dirlo, anche da clamorose sviste arbitrali. Mister, una sconfitta immeritata, soprattutto per gli episodi che vi hanno giocato contro. Ma allora, innanzitutto per quanto mi riguarda, oggi è stata una dimostrazione, dopo quella di domenica, che questi ragazzi possono starci in questa categoria. Perché oggi abbiamo giocato anche al cospetto di una squadra veramente forte negli uomini. Dal mio punto di vista, almeno quello che ho visto dalla panchina, l'abbiamo messa a tratti in difficoltà. E' chiaro che già è due volte, quindi sono due indizi, dove per mancanza di letture, per situazioni anche di palla da fermo, dove appunto c'è il singolo che poi deve andare a fare la differenza, prendiamo i gol. Non vorrei il terzo indizio, che sarebbe poi la prova che c'è qualche problema. Quindi non la reputo una sfortuna, perché la sfortuna dal mio punto di vista è un'altra cosa. Quindi benissimo per quanto riguarda l'atteggiamento, nonostante che eravamo sotto di due gol, ci abbiamo sempre creduto e per poco l'andavamo a riprendere. Però dobbiamo stare molto più attenti su alcune situazioni, perché poi in questo momento la prima distrazione ci fanno gol. Anche il rigore è sbagliato, anche quello non è sfortuna però. Mi riferisco anche naturalmente a quello, perché è chiaro che però con i secoli non si va molto lontano. Buttandolo dentro avevamo forse più tempo per fare quello che abbiamo fatto gli ultimi dieci minuti, quarto d'ora dopo il gol. Però a questi ragazzi, da questo punto di vista, non gli posso rimproverare assolutamente niente. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Abbiamo giocato con Seravezza, abbiamo giocato con l'Aglianese, abbiamo perso. Però il campo dal mio punto di vista l'abbiamo tenuto molto bene, abbiamo creato dei problemi e abbiamo giocato dal mio punto di vista tratti anche abbastanza bene. Sono stati degli episodi, voi come li avete visti? Ma come li avete visti? Lederli dalla panchina è dura. Quando c'è un mucchio di gente in aria fai fatica a giudicare. Stai sempre a quello che decide l'arbitro, nel bene e nel male. Io faccio i complimenti ai ragazzi perché comunque per la Marignanese era la seconda partita. Noi era la prima, addirittura ci hanno fermato quando si stava salendo in pulma. Dopo sette mesi abbiamo rigiocato il primo impegno ufficiale. Non è mai facile, lo abbiamo visto. Abbiamo trovato una squadra molto organizzata, una squadra che gioca a calcio, che prova a giocare a calcio. Noi l'abbiamo messa subito giusta, l'abbiamo presa anche nella maniera giusta a livello di cattiveria, a livello di attenzione. Poi c'è stato quell'episodio del rigore dove siamo stati bravi, il giocatore Marignanese un po' polli noi perché dalla linea del fallo laterale abbiamo fatto andare in area un giocatore e c'è stato il forcing finale. Quando poi nel finale la squadra avversaria mette dentro gente che ha centimetri non sai mai come va le partite. L'unica cosa che posso dire ai miei ragazzi, rifaccio i complimenti, ma sul 2-0 abbiamo avuto quelle 4-5-6 ripartenze dove si poteva mettere già prima il risultato, la parola fine alla partita e lì bisogna trovare la cattiveria giusta perché non sempre se no poi ti va bene. Allora, ogni tanto complimenti per la partita, nonostante una sconfitta immeritata. Ecco, gli episodi tu li hai visti dal campo, per noi il rigore non c'era a favore dell'Aglianese e nel finale forse meritavate il pareggio. Sì, sicuramente gli episodi hanno fatto la differenza oggi. Giocavamo sicuramente con una squadra importante, però questi episodi, dubbi, diciamo, hanno fatto la differenza alla fine. È vero, anche per noi c'è stato il rigore, dubbio anche quello secondo me, però abbiamo fatto un'ottima prova e sicuramente meritavamo qualcosa di più come domenica scorsa a Seravezza. Però se continuate così, se lavorate e evitate la nebbia di certi episodi, una mancata di lettura delle azioni, probabilmente farete un bel salto di qualità. Sì, sicuramente sì, mancano ancora 32 partite, c'è un campionato intero da giocare, abbiamo fatto vedere delle buone cose sia domenica a Seravezza che oggi in casa e qualcosa a livello di classifica, a livello di punti sicuramente ci manca perché abbiamo fatto zero punti in due partite, meritando sicuramente qualcosa di più, però anche in settimana lavoriamo molto bene anche con il mister, cerchiamo di giocare sempre dal basso e sicuramente sono certo che faremo bene in questo campionato di Serie D. Avete preso il primo gol su un'azione di calcio d'angolo dove loro hanno fatto uno schema che forse vi ha un po' messo in confusione? Più che lo schema è stata una palla ribattuta lì in mezzo all'area, vicino all'area piccola, c'è stato un po' di confusione sicuramente un errore da non ripetere perché era alla fine del primo tempo, dopo aver fischiato alla fine del primo tempo è una mazzata sicuramente, però anche nel secondo tempo dopo il rigore loro abbiamo risposto sicuramente bene cercando di riprendere la partita e ci eravamo praticamente riusciti, solo che è mancato veramente un niente per portare a casa almeno il pareggio.